SONIA Ah, mi interessa molto, sai, adoro i libri. Bene, allora ti interesseranno le nostre offerte. Questo è il mio numero. Chiedi di me per qualsiasi problema, eh. Io sono Sonia. Posso parlare con Sonia? Sì, cercavo Sonia. Cercavo Sonia. Ah, è fuori. Sì? Ah, appena uscita. Quando posso trovarla? Ah, va bene, allora magari chi ha... Posso parlare con Sonia? Esatto, Sonia. Sonia. Gianni Merzi. Chi? Sì, ascolta, mi sono messo nei guai, ho firmato delle cose, c'è un tipo che mi segue. Ma perché devi sempre firmare tutto? È molto importante che li ascolti. Ti piacciono i classici, eh? Sei una testa di cazzo. Capitolo conti. Era un pomeriggio annumorato e affuso. I classici sono importanti, sono sempre attuali, ciao. Ciao. Cosa stavamo dicendo? Capitolo primo. No, no. Parlando di... Edoardo, daremo questo nome a un ricco... 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 Grazie.